C'è bisogno di teatro, delle sue emozioni, della sua infinita bellezza. Queste le parole condivise in questi giorni dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modiche, rilanciate con forza sui social. Il teatro deve continuare a diffondere la sua magia anche con nuove modalità di accesso e di visione. La diretta streaming in questo caso diventa il mezzo di diffusione per incontrare il proprio pubblico che avrà un accesso totalmente gratuito ai contributi video che ogni martedì e venerdì saranno pubblicati alle 21. Basterà infatti accedere nella pagina Facebook del Teatro Garibaldi di Modica per vedere virtualmente le emozioni in sala e assistere allo spettacolo. Una proposta accessibile a tutti e per tutti, commenta Tonino Cannata, sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi. Siamo fermi con la normale attività di promozione culturale a causa della pandemia, ma come ha annunciato un mese fa abbiamo deciso di scadenzare online tutti gli appuntamenti che avevamo vissuto in estate e che avevano avuto un enorme successo di pubblico, ma anche la limitazione dei posti a sedere per le norme anti-Covid. In questo modo mettiamo questi appuntamenti a disposizione di tutti e torniamo a fare cultura in attesa di rivederci a teatro. Ancora una volta la Fondazione Teatro Garibaldi è al passo, con i tempi, pronta a rispondere alla particolare situazione del momento. Il primo evento andato in scena online martedì scorso è stato lo spettacolo con Notavirus. Si prosegue oggi con lo spettacolo, che è anche un inno alla sicilianità, con le letture teatrali di Andrea Tidona e del maestro Don Gesualdo e le musiche eseguite dal vivo alle percussioni da Andrea Sciacca. Sempre la Sicilia e alcuni suoi figli più illustri sono i protagonisti dell'appuntamento di martedì prossimo, ancora martedì 8 dicembre, con lo straordinario Pippo Patavina impegnato in amori siciliani, tratti da racconti di Capuana, Brancati, Sciacca e Tommasi di Lampedusa. Venerdì 11 appuntamento con novelle e canti di Sicilia, con Mirko Magistro e Antonio Interisano, che raccontano e cantano la terra siciliana, accompagnati dal vivo dal pianoforte di Sergio Garruba e dalle percussioni di Giuseppe Valenti.